La frase che dà titolo alla mia conversazione, la comune rovina delle classi, un lotta, è una citazione del manifesto di Marx, il manifesto dei comunisti del 1848, una citazione nota che comunque abbiamo letto Marx conosce questa citazione. Poi possono accadere cose strane come mi è accaduto nei giorni scorsi, che un'anima bia che ha visto l'iniziativa, il titolo, ah bene, bravi, anche voi comunisti avete capito che la lotta di classe non c'è più, che bisogna, se no si va incontro alla rovina, se c'è la lotta di classe si va incontro alla rovina, fate bene, ecco finalmente, Marx pensava esattamente il contrario, però siccome era un'anima bia non l'ho voluta disilludere, ho detto no, bisogna evitare la comune rovina, bisogna pensare a fin di bene, ma appunto Marx può essere frainteso facilmente. Ora questa frase, appunto questa citazione di Marx, la comune rovina delle classi in lotta, è una frase come vi dicevo che sta nel manifesto, non è una frase sconosciuta, Marx, molte ober di Marx sono state pubblicate molti anni dopo rispetto al momento in cui sono state scritte, molti anni anche dopo la morte di Marx, prendete appunto un termine, un concetto famoso, il concetto di alienazione, che è al centro di tanta parte della filosofia del Novecento, un concetto che sta negli scritti giovanili di Marx, ma che Marx non ha mai pubblicato, le opere pubblicate nell'Ottocento da parte di Marx, termine alienazione non c'è, e quindi termine alienazione, parola tipicamente marxiana e prima foglia bacchiana, non compare nel dipattito dell'Ottocento, però invece questa, la comune rovina delle classi in lotta, sta nel manifesto del 48, un'opera edita pubblicata che ha da subito e nel corso dell'Ottocento un grande successo, traduzioni, traduzioni in gran parte delle lingue mondiali, un testo noto, eppure, pur essendo una frase nota, a mio giudizio, per lo stato delle ricerche, su quella frase così evidente, così nota, non scoperta postuma, non c'è stata sufficiente riflessione. Per questo ho voluto richiamare l'attenzione su questo. Succede che a volte le cose più evidenti non si notino abbastanza. Ora, quella frase, basta una frase su Marx, attenti, come indicazione, in fondo ve ne siete accorti anche chi ha ascoltato le relazioni di ieri, di stamattina, in fondo i grandi pensatori una sola frase genera enciclopedie di interpretazioni, di discussioni. Marx ha fatto questo, avete sentito prima la lezione del professor Iacono, uno spettro saggira per l'Europa, l'inizio del manifesto. Ecco, su quello spettro saggira per l'Europa, quanti libri, quanti saggi, derida da ultimo spettro di Marx, sono stati scritti? Quanti testi di analisi del carattere spettrale del capitalismo sono stati fatti in agitazione? Oppure, altra agitazione famosa che apre appunto il primo capitolo del manifesto, non la prefazione, la storia è storia di lotte di classe. È l'inizio, il primo capitolo, comincia con questa frase, la storia finora conosciuta è storia di lotte di classi. Ecco, se si prendesse anche solo questa frase di Marx, quanta discussione si è accesa successivamente, quando, sia per condividerla sia per contrastarla, sia chiaro, non c'è nessuna scolastica appunto, dieci, cento, mille Marx, per condividerlo, per contrastarla. Quando Max Weber scrive l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, sostanzialmente vuole ripaltare questa frase, non basta la lotta di classe per spiegare il cambiamento storico, lo sviluppo del capitalismo. Quando Benedetto Croce scrive materialismo storico, economia marxistica, vuol dire che non si può riturre tutta la storia a lotte di classe per quanto siano importanti e tutti riconoscono che ci sono. Oppure, vedete un film di un grande regista francese, Jean-Jacques, lo stesso che ha fatto Il nome della Rosa, fatto qualche anno fa un film, Il nemico alle porte, dedicato alla battaglia di Stalingrado, un passaggio chiave, lo scontro fra un nobile tedesco che va a caccia di Gervin in Baviera, il tiratore scelto che viene mandato a Stalingrado dai tedeschi, e un contadino degli Urali che dà la caccia ai lupi, e il film è il duello fra il cecchino tedesco e il cecchino sovietico che si inseguono per uccidersi in tutto il film, il film dice, ecco, il confronto fra un nobile tedesco e un pastore degli Urali, questa è l'essenza della lotta di classe. Un film storico, un film anche spettacolare, un film d'azione, il centro della trama è lo scontro fra due figure che rappresentano classi diverse. Oppure è superfluo che vi dica, prendete la frase arcinota, proletari di tutto il mondo unitevi, la trovate dappertutto. Ci potete trovare dotti saggi, slogan degli striscioni dei cortei che abbiamo visto negli anni passati. Quindi anche questa frase, però ci sono state frasi di Marx, molto fortunate, basta una frase per generare una biblioteca, una ricca bibliografia, e frasi altrettanto chiare, ma forse meno fortunate. Ecco, la comune rovina, delle classi in lotta, frase secca e lapitaria, non ha avuto questa fortuna. Io però inviterei a riflettere appunto, inviterei a riflettere. Questa frase sta all'inizio del manifesto appunto, se volete, alla teggi marica del primo capitolo, forgesi e proletari. Quel capitolo che comincia la storia, finora esistita una storia di lotta di classe, proprietari di schiavi e schiavi, patrizi e plevei, servi della cleva e nobili, oppressori e oppressi. La storia finora è stata storia di lotta di classe che si è risolta o in una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o nella comune rovina delle classi in lotta. Così si chiude alla teggi marica la frase. È una frase alternativa, lo vedete, c'è un out nel mezzo. O la trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o la comune rovina delle classi in lotta. Attenzione, cosa aveva esattamente in mente Marx nell'usare? Quale riferimento storico? Perché di fondo sta dando uno sguardo sul passato, sta guardando appunto la storia passata. A quale passaggio storico si riferisce esattamente Marx parlando della comune rovina delle classi in lotta? La trasformazione rivoluzionaria si fa presto a capire, aveva alle spalle la rivoluzione francese, esempio di una classe in lotta, la porgesia contro l'aristocrazia e la rivoluzione francese, la trasformazione rivoluzionaria della società. A cosa invece guardasse esattamente dicendo la comune rovina delle classi in lotta? Lì nel manifesto non lo dice, ma anche in altre opere di Marx. Se si va, l'opera è sterminata ovviamente di Marx, ma se si guarda anche in altri testi, anche in altri passi non ci sono riferimenti puntuali per dare un connotato storico, un riferimento storico. Si può tentare, si può tentare. Io offro solo delle ipotesi interpretative perché non ho riscontro filologico. Può darsi che stesse pensando appunto al crollo dell'impero romano, al tramonto dell'impero romano, perché certo sì, i barbari lo sappiamo, ma sappiamo che poi l'impero romano crolla soprattutto per cause interne, più che per l'urto esterno delle popolazioni barbariche. Si verrebbe quasi da dire un Marx vichiano, un vico che quando ragiona sulle crisi di civiltà, i ricorsi storici, le civiltà abbia avanzato e a un certo punto crollano e l'impero romano era l'esempio classico, un tema di battuto per secoli, un classico della storiografia, cause della decadenza e caduta dell'impero romano. E quindi Marx conosceva questa letteratura anche dei secoli precedenti, Montesquieu citato poco fa, ha scritto fra tante cose, ha scritto anche un saggio sulla causa della decadenza dell'impero romano. Oppure io penso questo, ma l'avanzo con tutta la cautela del caso, perché non ho riscontro testuale per dire, sto solo interpretando, per dare un senso a questa frase di Marx, però in altri scritti di Marx troviamo riferimenti a questo passaggio storico e quindi a una sua plausibilità. Probabilmente Marx stava pensando alla crisi italiana alla fine del medioevo, l'indizio dell'età moderna, all'Italia alla fine del 400, il famigerato 1494 se vogliamo. L'Italia per prima, le città italiane, i comuni italiani nel medioevo sviluppano il capitalismo, sviluppano l'economia monetaria, il commercio, le banche, l'Italia è all'avanguardia in Europa e nel mondo per la nuova economia capitalistica, si sta uscendo dal feudalismo, si sta uscendo dal medioevo, però sappiamo tutti, lo impariamo nei banchi di scuola, qual è il destino dell'Italia. Sulla soglia dell'Italia moderna l'Italia è il punto più avanzato dal punto di vista del paese più ricco economicamente e il più ricco culturalmente, siamo in pieno rinascimento, ma un disastro politico, le dominazioni straniere, prima la Francia, poi la Spagna e le classi in lotta, quel conflitto che aveva segnato le città italiane e che aveva segnato anche un elemento di progresso e di sviluppo e di crescita provoca una decadenza dell'Italia. Quindi la comune rovina delle classi in lotta, forse l'esempio storico concreto è la decadenza dell'Italia all'inizio dell'età moderna. Da paese d'avanguardia il conflitto non produce uno Stato, non produce una configurazione sociale più avanzata, le città italiane decadono e diventano preda delle potenze straniere. Ecco se si volesse fare, vedete sto leggendo Marx come se reinterpretasse Machiavelli e questo riferimento a Machiavelli tenetelo presente, non solo perché Croce dirà Marx è il Machiavelli del proletariato, ma c'è qualche cosa di più, attenzione, c'è la stessa visione realistica e tragica della storia. Machiavelli aveva visto tutto, aveva previsto tutto, capisce cosa sta succedendo in Italia, non trova nessun principe, nessun Stato, nessuna forza politica che possa fermare lo sfagello dell'Italia e tenere l'Italia al passo con gli altri Stati europei moderni. E si potrebbe dire, e Marx oggi non ha cercato in quell'appello per oletari di tutto il mondo, unitovi nel manifesto, nella sua lotta politica, un soggetto politico che regga e crea una trasformazione, un cambiamento e poi oggi vediamo, ne abbiamo discusso in questi due giorni, quel soggetto rivoluzionario non c'è, non c'è più, c'è stato forse, ma certamente oggi non lo si vede. Ecco l'analogia con Machiavelli, un realismo tragico era Machiavelli, chi vede chiaramente cosa sta succedendo e cosa bisognerebbe fare e nello stesso tempo non c'è nessuno in grado di raccogliere quell'appello. Al finale del principe, l'agitazione petrarchesca somiglia molto al finale del manifesto, un appello, un appello politico a prendere iniziativa per cambiare le cose perché è chiaro dove si sta andando ed è anche chiaro la catastrofe che si profila se non si prende un'altra strada. Però attenzione, torniamo a questa, perché Marx, perché nell'Ottocento questa frase che pure c'è chiarissima ed è nota, non scopriamo niente, non viene sviluppata? E Marx stesso, molti mi potrebbero piettare, ma in fondo Marx stesso sviluppa il suo pensiero in un'altra direzione. Beh, ma è evidente, quando lo scrive siamo nel 1848, siamo nel pieno della prima rivoluzione industriale, in quel momento davvero la borghesia sta cambiando il mondo, sta sostituendo le vecchie classi aristocratiche e quindi siamo in fase espansiva. La società borghese capitalistica si sta sviluppando, sta rivoluzionando continuamente il mondo e Marx elogia questa cosa nel manifesto stesso. E contemporaneamente sta nascendo la classe oberaia. Negli anni 40 in Inghilterra si sono formati i sindacati, ci sono state le prime lotte oberaie, gli oberai in Inghilterra stanno chiedendo il diritto di voto anche se non lo ottengono subito. E quindi c'è la rivoluzione borghese, la rivoluzione industriale, la rivoluzione borghese in corso, ma anche un movimento beraio che è diventato una forza reale, una forza storica che sta acquisendo coscienza politica e la storia va avanti. Siamo nel pieno della prima rivoluzione industriale e di lì a poco e pochi decenni dopo si sviluppa la seconda rivoluzione industriale e verranno fondati i partiti socialisti, i partiti socialdemocratici. Quindi siamo in una fase ascendente, quindi non c'è all'orizzonte, alle viste la comune rovina delle classi in lotta. C'è l'espansione capitalistica e la possibilità nello stesso tempo del movimento oberaio di svilupparsi e di entrare nel processo storico in qualche modo di poterlo orientare attraverso la lotta di classe, per l'appunto. Quindi Marx stesso non sviluppa questa frase, per quanto la pianti lì, la metta lì, la ponga lì con grande nettezza. E però appunto converebbe ragionarci. Perché nell'Ottocento, ma anche oltre, l'idea di un pensiero di Marx, della visione della storia di Marx, dove la storia è un andare avanti con lotte, con conflitti, combattute d'arresto, ma insomma andremo avanti. L'immagine retorica del sole dell'avvenire e il socialismo come sole dell'avvenire è stata una certezza alla quale si sono affidate generazioni di militanti politici, di combattenti politici. Oggi possiamo perdere, ma domani vinceremo. Sorgerà il sole dell'avvenire, con la certezza di una legge di natura quasi. Oggi è notte, ma appunto il sole della rivoluzione, del socialismo, della nuova società, sorgerà inevitabilmente. Una visione quasi scientistica. Engels, forse più di Marx, è stato detto anche nelle chiacchierate di ieri, in qualche modo ha avallato questa certezza di un futuro che apparterà al mondo del lavoro, alle classi lavoratrici. E però in Marx questa idea di uno sviluppo unilineare, sia pure contrastato, ma uno sviluppo certo, in Marx non c'è. Vedi, in Marx è netta l'alternativa. O c'è una trasformazione rivoluzionaria, e anche qui nessuno è ingenuo, lo capite bene, trasformazione rivoluzionaria non vuol dire l'assalto al palazzo d'inverno o la presa dalla pastiglia, l'atto rivoluzionario di un giorno simbolico. È un processo storico, una trasformazione rivoluzionaria. A volte richiede anni. Però appunto un processo di trovare una nuova configurazione sociale. O c'è questo, o c'è la comune rovina delle classi in lotta. Il pensiero di Marx è dicotomico, non è lineare. O, o. E anche in questo somiglia a Machiavelli, al suo stile. Si prende una strada o se ne prende un'altra. Una strada porta in una direzione e un'altra porta nella direzione opposta. Ecco, questo è un elemento che nell'Ottocento non emerge. Eppure noi oggi lo possiamo vedere meglio, questa alternativa. O un cambiamento o il rischio di una crisi generale. E già qui ci si libera patate però in un colpo solo. Se dobbiamo ripensare oggi Marx, dobbiamo ripartire da Marx, rileggere da Marx, anche qui da decine, da un secolo di interpretazioni troppo semplificate del pensiero di Marx. Cioè l'idea di uno sviluppo lineare. L'idea che sicuramente andremo verso il socialismo. Alla fine un'idea è ingenua. Molti marxisti hanno sostenuto, coltivato da questa idea. Se ne può capire anche le ragioni politiche per cui quell'idea si è diffusa. Però non è il pensiero di Marx. Il pensiero di Marx che è più complesso. Prevede un'alternativa progressiva o catastrofica. Marx ha ragione in questi termini. Io lo richiamerei, lo terrei invece oggi presente, perché oggi possiamo vederlo meglio. Nello stesso tempo, attenzione, Marx, questa frase, anche questa semplice frase, ci libera da un'altra interpretazione del pensiero di Marx. Non solo questa lineare stiamo andando verso il futuro e il futuro è nostro. Sorgerà il sol dell'avvenire. Ma ci libera Marx anche da un'altra lettura del suo pensiero che c'è stata nel corso dell'Ottocento. La comune ruina delle classi in lotta, attenzione, non è la crisi del capitalismo. Perché se noi leggiamo Marx, già nel manifesto, ma poi in forma molto più organica, Marx, gran parte del capitale è una teoria della crisi del capitalismo, uno studio dei molti fattori di crisi. Perché il capitalismo porta dentro di sé elementi di crisi periodica e le crisi ci sono state. C'erano già state, storicamente parlando, nello sviluppo del primo ottocento e ce ne saranno di ben più drammatiche nei secoli successivi, nel novecento, dalla crisi del ventinove a questa crisi che stiamo vivendo ora dal 2008 in avanti e che al di là delle chiacchiere non ne siamo ancora usciti. Però appunto la comune ruina delle classi in lotta non è l'anticipo di una teoria della crisi del capitalismo. Perché in fondo Marx e anche qui nell'Ottocento, quando si ragiona sulle crisi del capitalismo, un dipattito anche questo che è durato decenni, è diventato persino stucchevole e che ha appassionato marxisti e antimarxisti nel corso dell'Ottocento e ancora nel primo novecento, crisi, crollo, rivoluzione. Crisi, crollo. Anche qui in Marx, anche se si legge il capitale, crisi, crollo, una teoria del crollo del capitalismo, per quanto se ne sia discusso per anni, in Marx non c'è. E anche questa logica, crisi come protromo per la rivoluzione, come anticipazione della rivoluzione, è un tema che in Marx c'è, ma non è questa frase. La rovina comune delle classi in lotta è una cosa diversa, la teoria della crisi, che pure in Marx c'è, c'è una teoria della crisi. È una cosa diversa, è molto più drammatica, perché le crisi, magari il capitalismo se le risolve e apre un nuovo ciclo di espansione, o magari qualcuno auspicava la rivoluzione, crisi e rivoluzione, quindi comunque un'uscita dalla crisi, qui Marx non vede un'uscita dalla crisi, vede la comune rovina delle classi in lotta. Quindi vedete che solo questa frase, rileggere questa frase, che sta in un testo così noto e datato, per certi versi, del 1848, immediatamente ci libera da un sacco di discussioni che ci hanno accompagnate, ma quelle sì sono fuori moda, sono storicamente datate, importanti per quell'epoca, ma datate, decisamente superate. E Marx è oltre queste letture, capite perché Marx diceva io non sono marxista, insomma, perché probabilmente non si riconosceva in molte delle interpretazioni che già circolavano, lui vivente, e poi immaginiamo molte che ne sono venute dopo. E però facciamo appunto un passaggio. Questa frase, la comune rovina delle classi in lotta, se nell'Ottocento sostanzialmente non è colta, c'è, è lì, scritta, ma nessuno la medita. Nel Novecento questa frase comincia a entrare sulla scena politica. E ce n'è ben d'onde? Quando è che questa frase di Marx torna nel dipattito, non solo fra i marxisti, ma anche nella grande filosofia europea? Faremo dei brevi riferimenti. Beh, il Novecento lo sappiamo cosa è stato. Due guerre mondiali, il fascismo, il nazismo, lo stalinismo stesso è un'esperienza traumatica, non è che un'esperienza allegra. Quindi il Novecento è davvero stato un secolo di ferro. L'ottimismo dell'Ottocento, le magnifiche sorti e progressive si sono dissolte con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Qui è facile mettere anche le date. La Prima Guerra Mondiale segna davvero una cesura storica fra l'Ottocento e il Novecento. E la Prima Guerra Mondiale non finisce, c'è il secondo tempo della Seconda Guerra Mondiale, è in mezzo fascismo e nazismo e dopo la Seconda Guerra Mondiale la guerra fredda che è comunque l'equilibrio del terrore, le armi atomiche. E' quindi evidente che il rischio della comune rovina delle classi in lotta al tempo delle armi nucleari e della guerra fredda e dei missili puntati, ma quei missili esistono ancora e si sono ridotti negli ultimi decenni, non c'è più l'ansia, l'angoscia della catastrofe nucleare degli anni 50 o 60, ma ci sono ancora armamenti nucleari sufficienti per distruggere più volte la vita umana e la civiltà sulla terra. Quindi il Novecento, vedete, quella frase comincia a dare concretezza, comincia a entrare nella tensione collettiva, entra sulla scena della storia. Anche qui prendiamo degli esempi, vado per flash e ovviamente per ovvie ragioni di tempo vado a spizzico e senza note a piedi pagina faccio delle considerazioni veloci, ma cogliere dei punti di passaggio. Dov'è che questa frase, la comune rovina delle classi in lotta comincia a entrare in campo. Intanto, consentite una notazione filologica, l'ha fatta molto opportunamente Iacono a proposito dell'entrare in scena, del si presenta all'entrare in scena, e il termine tedesco è più ricco di significati di pur corrette traduzioni italiane. Così la frase che noi traduciamo, la comune rovina delle classi in lotta, il termine tedesco nel testo di Marx, il manifesto, la versione originale scritta in tedesco, lo sapete, il termine tedesco che viene usato è untergang, che significa, fra le traduzioni possibili, il tramonto. Quindi potremmo anche tradurla con il comune tramonto delle classi in lotta. La parola tedesca untergang, presa la lettera, significa andar giù, unter è come under in inglese, andar giù, gang è andare, andare giù, scendere giù, tramontare il sole che scende giù, il sole che tramonta. E patate, non è una divacazione poetica, perché se il termine tramonto, se c'è un termine su cui i filosofi del Novecento hanno ragionato, discusso fino alla noia, è proprio il termine del tramonto. Non si capisce una rica di Nice negli anni Ottanta se si toglie il termine tramonto. Io sono un tramonto, dirà Nice, e l'Occidente è la terra del tramonto. E dopo Nice e Heidegger, siamo pure i nomi più famosi, ma anche qui la bibliografia sarebbe lunghissima, Heidegger, l'Italia del tramonto dell'Occidente, l'Occidente è la terra del tramonto, e quel tramonto è cominciato con Platone e si sta concludendo nell'epoca della tecnica. gran parte della filosofia del Novecento è una riflessione sul tramonto come metafora di una crisi di civiltà. Ora non voglio dire che Marx ha direttamente influenzato Nice, e Nice sicuramente non ha letto Marx, conosceva l'idea del socialismo, era ferocemente antisocialista, probabilmente non ha mai letto Marx. Heidegger sì, Heidegger, Marx l'ha letto, come lo si vede dai suoi testi, basta vedere la lettera sull'umanismo, ci sono citazioni dirette. Però il problema qui non è di figliazioni bibliografiche, digitazioni delle fonti, il problema è di un tema che si impone. Vedete, in Marx il tema del tramonto di una civiltà intera, lì in quel passo del manifesto c'è tutto, e il Novecento se ne accorge. Lo riscopre per conto suo, magari lo riscopre anche senza dover leggere il manifesto, perché quel tema si impone sulla scena storica, diventa elemento di riflessione collettiva. Il problema è che se hanno letto Marx, il problema è che quel tema del tramonto di una civiltà, la comune ruina delle classi in lotta, il tramonto delle classi, il tramonto comune delle classi in lotta, entra sulla scena storica. Però attenzione, nonostante questo accada indubitabilmente, sia nel campo marxista, nel campo delle forze dei partiti socialisti e comunisti, questo tema della comune ruina delle classi in lotta comincia a prendere corpo. Anche qui degli esempi rapidi, vi dicevo, per ragioni di tempo, non è il caso di insistere oltre, ma quando Rosa Luxemburg scrive socialismo o barbarie, è una variazione dello stesso tema, e Rosa Luxemburg scrive socialismo o barbarie mentre è in carcere, lei che si batteva contro la prima guerra mondiale, fa propaganda contro e quindi viene incarcerata, si è rotta la socialdemocrazia, nasce il movimento appunto di Spartaco, per i cultori della letteratura antica, Rosa Luxemburg fonda la lega di Spartaco, gli spartachisti sono quei socialisti che si battono contro la guerra e vogliono difendere le ragioni dell'internazionale contro i nazionalismi scatenati. Ecco, è in carcere, Rosa Luxemburg scrive questo saggio che ogni riformista dovrebbe leggere sulla crisi della socialdemocrazia, e lì c'è socialismo o barbarie. E lei stessa dice, questa frase l'ho presa da Engels, poi probabilmente un errore, alcuni studiosi non c'è neanche in marzo socialismo o barbarie in termini secchi, lei lo cita, legita Engels, ma in realtà, poi non bisognerebbe controllare meglio come sempre, probabilmente il testo sta nel programma di Erfurt della socialdemocrazia scritto da Engels, ma non ha importanza, ora è solo filologia, vedete persino Rosa Luxemburg richiama questa fonte, ma il problema non è la fonte, lo capite bene, non è l'agitazione letteraria, è che nel pieno della guerra si capisce socialismo o barbarie. Ecco qui il tema della barbarie, forse viene in mente appunto la crisi dell'impero romano, ma torna il tema della barbarie, la guerra è barbarie. E Rosa Luxemburg, anche lì tragicamente vedeva lontano, Rosa Luxemburg lo sapete, verrà assassinata nel 1919 da fanatici nazionalisti che preludono alla nascita del nazismo e fallisce la rivoluzione in Germania. Quindi nasce la Repubblica di Weimar, ma nasce su una tragedia, su una rivoluzione mancata e sull'estrema destra nazionalista e militarista che mette un'ipoteca pesante sulla nascente, sulla prima democrazia tedesca. Quindi in Rosa Luxemburg c'è socialismo o barbarie e questo tema diventa anche qui quasi uno slogan, ci accompagnerà nella storia del Novecento. La seconda guerra mondiale ha ancora più evidenza questa cosa. Oppure, passiamo da chi è direttamente impegnato nella lotta politica, ma anche una grande studiosa, una grande teorica come Rosa Luxemburg, ha i grandi filosofi marxisti del Novecento, anche qui scegliete chi volete, non c'è tempo ora di approfondire. Ma insomma, qual è l'argomento che Lukács, Bloch, a Torno utilizzano continuamente? Stiamo rischiando la barbarie. Prendete l'immagine che usa Lukács in un saggio famoso degli anni 30, Grand Hotel Apisso. Che cos'è il Grand Hotel Apisso? È una critica agli intellettuali, agli intellettuali borghesi che vedono la crisi del mondo borghese. E però dicono che il mondo borghese ha prontato per la sua classe intellettuale, che è pronta a passare, che capisce che il mondo borghese è in crisi, sta finendo dopo la Prima Guerra Mondiale, col più dopo il nazismo. Però ai grandi intellettuali gli si offre un hotel di lusso, un grand hotel, dove si può contemplare, stando al sicuro, l'apisso della storia, le nefandezze della storia, però voi state lì al sicuro. Non schieratevi dalla parte della rivoluzione, non schieratevi dalla parte delle forze rivoluzionarie. La vedete, la vedete la crisi, ma potete star lì. E ovviamente anche questo è un testo militante. Per certi aspetti persino rozzo, teoricamente, nella sua brutalità. E però cogli un punto, se volete, il grand hotel a pisso è, come dire, la versione politico-militante di un grande intellettuale che ha letto Thomas Mann e conosce la Montagna Incantata. Mentre la fonte è questa, quel sanatorio che è anche un grande hotel sulle Alpi Svizzere, dove si ragiona sulla vita, sulla morte, sui valori, sull'arte. E tutta quella storia finisce con lo scoppio della prima guerra mondiale. Davos, oggi a Davos ci sono i vertici del capitalismo internazionale che si riuniscono per ragionare sulle sorti del mondo. Però qual è anche qui, attenzione, pure in questa visione così drammatica, cos'è che si dice? Perché compare la comune rovina delle classi in lotta, ma anche lì non la si porta fino in fondo? Beh, Lucas può ben dire. Voi grandi intellettuali porghesi, vedete la crisi del mondo porghese, la crisi della civiltà europea, schieratevi. Schieratevi dalla parte delle forze progressive, del movimento dei lavoratori, le forze della democrazia, le forze del socialismo. Poi in quegli anni c'è l'Unione Sovietica, ma se l'Unione Sovietica può andare bene anche l'America di Roosevelt che si oppone comunque alla crisi europea. Però ci si schieri. Quindi vedete, la comune rovina della classe in lotta compare, acquista con notati concreti, però c'è un campo di forze, può essere l'Unione Sovietica, può essere l'America del New Deal, c'è un campo di forze che può contrastare la decadenza dell'Europa, dell'affermazione del nazismo e così via. Quindi non si va fino in fondo, non si guarda fino in fondo il tema della comune rovina delle classi in lotta, anche se capite bene acquisito una concretezza storica, una trammaticità storica che nel corso dell'Ottocento non aveva ancora. Ma se si fa un passo, e gli esempi si potrebbero sprecare, attenzione, se si fa un passo ancora più in avanti, dov'è che ritrova faccia dei salti, ma siamo sempre dentro la stessa epoca storica, arriviamo alla fine degli anni settanta. Anche qui si potrebbero trovare altri passi, per citare, l'abbiamo citato, citavo prima anche Iacono, e la nostra generazione ha avuto la fortuna di conoscerlo vivo, Enrico Perlinguer. Ecco, in un discorso famoso di Enrico Perlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, lo dico per i più giovani, che magari non hanno ancora studiato la storia contemporanea. In un discorso importante del 1977, un discorso rivolto agli intellettuali, il Partito Comunista Italiano in quel momento ha raggiunto il massimo dei voti, ci sono state delle politiche l'anno prima del 76, il PCI schizza al 34%, l'Italia è segnata da una forte crisi economica, crisi politica, il PCI fa un importante convegno, quel tempo in cui, come diceva Jacopo, intellettuali e politica si parlavano, è il convegno dell'Eliseo, Perlinguer fa il discorso introduttivo, il tema di fondo lì è il tema dell'austerità, dove l'austerità non è quella di oggi che ci impone la Commissione europea, il tema dell'austerità è cambiare il modo di vita, il consumismo sfrenato, il rischio del problema ambientale che comincia a emergere, il limite delle risorse che comincia a emergere, quindi bisogna cambiare il modello di sviluppo, non è l'austerità del convento francescano, doveppure non c'è niente di male, ma è cambiare il modello di sviluppo, e lì in questo discorso, il discorso dell'austerità, dove si pone il problema di cambiare il modello di sviluppo in Occidente, Perlinguer cita testualmente, perché come Marx ci aveva insegnato, se non c'è una trasformazione del modello sociale, c'è la comune rovina delle classi in lotta, ricompare, vedete in questo scritto, questo intervento, questo discorso del 77, e però attenzione, arriviamo al presente, poi mi avvio a concludere, se non la si fa troppo lunga, a partire dagli anni, fino agli anni 70, avete sentito anche le relazioni di stamani, appunto nel corso del 900, e fino agli anni 70 l'idea che ci sia un'alternativa, che sia possibile un cambiamento, proprio dare crisi e magari crolli di civiltà, è un tema che attraversa tutto il dibattito politico. Poi non serve stare a dire se dalla parte della civiltà c'erano gli Stati Uniti o c'era l'Unione Sovietica, perché avevano entrambi cose inaccettabili, il sistema partito unico, la dittatura, l'appiattimento, ma anche negli Stati Uniti, sì, la democrazia in Europa e negli Stati Uniti, ma appoggio alle più spietate dittature, dal Cile all'Africa, alle altre parti del mondo, senza scruboli, appoggio alle più spietate dittature nella logica dei blocchi contrapposti. Però vedete, c'erano livelli di civiltà alti, c'erano comunque principi democratici forti negli Stati Uniti, l'ideale di un'equaglianza sociale, di un mondo migliore comunque di diritti sociali fondamentali risolti nel mondo, nel blocco sovietico. E quindi l'idea della comune ruina delle classi in lotta c'era come minaccia, magari la minaccia delle armi nucleari, però si cercava l'equilibrio, la distensione, un avvio di politica di disarmo e quindi si riapriva una prospettiva per il progresso della civiltà. A partire dagli anni Ottanta, quindi anche prima del muro di Berlino, qualcosa si rompe. Se si dovesse fare una periodizzazione storica, qualcosa si interrompe. Io dico sempre, se dovessero scegliere delle date simboliche non traumatiche, io sceglierei fra il 79 e l'80, il discorso del Berlinguer è del 77, ma è una linea sconfitta quella di Berlinguer, non si afferma. Discorso alto, forte politicamente, ma un discorso sconfitto, quello di Berlinguer del 77, dell'austerità. Si arriva al 79 e in Inghilterra la Thatcher vince le elezioni. L'anno dopo, 1980, Reagan vince le elezioni negli Stati Uniti. E attenzione, vincono le elezioni, non è che fanno un colpo di Stato con i cararmati e mettono nei campi di concentramento agli esponenti del Partito Democratico e del Partito Lavorista. Vincono le elezioni e non vincono solo un'elezione, aprono un nuovo ciclo storico, un ciclo storico dal quale non siamo ancora usciti. Un ciclo storico nel quale siete nati voi generazioni più giovani, tutti nati dopo gli anni 80, ormai siete anche nati negli anni 2000. Ed è un ciclo storico dal quale non siamo ancora usciti. Noi appunto che abbiamo fatto in tempo a vedere il mondo prima degli anni 80, o se volete prima dell'89, poi si arriva al muro di Berlino. Il muro di Berlino non crolla in un giorno, è un decennio che porta alla frana di quel muro. Noi abbiamo fatto in tempo a vedere questo passaggio. Ecco, le nuove generazioni sono cresciute solo dopo gli anni 80, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo l'onda neoliberista che con Reagan e la Thatcher dall'America agli Stati Uniti e vincendo le elezioni si afferma su scala planetaria. Nasce quella che chiamiamo la globalizzazione di oggi, la mondializzazione di oggi. Ecco, nel mondo globalizzato, che comincia negli anni 80 e ci siamo ancora immersi, ci siamo ancora dentro, la frase di Marx, e questa io ve la propongo come elemento di riflessione, non come affermazione apotitica, come dogma, ma come domanda su cui interrogarsi. Ma non è che mai come ora, mai come negli ultimi 30 anni, la comune rovina delle classi in lotta, o se preferite il tramonto della civiltà europea occidentale, sta diventando concretezza, sta diventando realtà. Quella che era solo un'evocazione di un rischio, oh oh, in Marx, oggi sta entrando sulla scena della storia. Io ve la pongo come domanda, perché sarei un dogmatico o un cattivo profeta, se dicesi sì, è così, siamo entrati nella fase della crisi irreversibile, si salvi chi può, raccomando al divilani, ma addio, non c'è più speranza. Sarei un cattivo propagandista. E però credo che la domanda vada posta, si debba porre. E questo perché? Perché vedo queste cose? Vedete, se guardate appunto la storia europea e mondiale, nel corso degli anni 80, 90 e poi negli anni 2000, da un lato si è assistito progressivamente alla perdita, alle sconfitte progressive di quelle che dovevano essere le forze del cambiamento. Quelle forze che in qualche modo fa già un riferimento alle idee di Marx. Nell'89 crolla il muro di Berlino, nel 91 crolla l'Unione Sovietica. E attenzione, crollano perché si accartocciano su se stesse. Non è che i cararmati americani hanno sfondato il muro di Berlino. È il governo della Germania Est che d'accordo con l'Unione Sovietica manda una cru, sposta il muro, il muro non c'è più, ma cambia la storia. Gorbaciov viene dimissionato dal comitato centrale del Pigus e il Pigus si sgredola come un castello di carte o come un castello di sabbia. E quel mondo crolla. Ma attenzione, il crollo del mondo sovietico, del comunismo sovietico, non rappresenta la vittoria della socialdemocrazia. È solo l'anticipo della crisi delle forze socialiste e socialdemocratiche in Europa. Oggi lo vediamo, eh. Oggi lo vediamo con una evidenza netta. All'epoca, negli anni Ottanta, poteva sembrare, ha perso il modello sovietico, orientale, vince a sinistra il modello socialdemocratico, socialista, socialdemocratico, europeo, occidentale. Oggi non è più così. Dov'è oggi in Europa e nel mondo un peso delle forze del socialismo europeo internazionale in grado di influire sulle grandi scelte dell'economia o della politica estera. Esiste, sì, oggi un partito del socialismo europeo. È una sigla priva di efficacia politica. E questo è un processo appunto che nel corso dei decenni, dagli anni Ottanta in poi, l'abbiamo visto in modo sempre più chiaro, in modo sempre più netto. Però come è stato interpretato da molti, anche da noi, anche in questi giorni, in queste relazioni, vabbè, abbiamo perso noi. Ha perso il movimento, quello che una volta chiamavamo il movimento operaio, ha perso il movimento socialista, oggi la sinistra dov'è? La sinistra non c'è più. La Tandini fa un appello a chi l'ha visto, giustamente, per prendere in giro la sinistra, che in Italia non c'è più, ma anche nel resto del mondo non è che stia poi troppo bene. E venisse verso la sinistra. E si rimane ancorati all'idea che però, appunto, ha vinto il capitalismo, ha vinto il mondo borghese. La lotta di classe si è combattuta, hanno smesso di combatterla gli operai, la lotta di classe l'ha vinta la borghesia. Critici di sinistra, intellettuali sinistra, marxisti, hanno fatto questa affermazione. La lotta di classe c'è ancora e la sta vincendo, l'hanno vinta i valori capitalistico-porghesi. E anche nelle nostre analisi, anche di oggi, di questi giorni, quest'idea in fondo è in campo. Ecco, io vorrei dire invece, vi inviterei a riflettere su questo, perché la frase di Marx è la chiave di lettura. La comune rovina delle classi in lotta non è la sconfitta della classe operaia, dei lavoratori, delle idee del socialismo. È anche la sconfitta del mondo porghese, dei valori porghesi. Marx dice, la comune rovina delle classi in lotta. Entrambe le classi. Non ci sembra ancora. Ecco, io lo dico amichevolmente al mio amico Giuliano, che ieri citava paper, siamo nella cabbia d'acciaio del capitalismo. Ecco, la cabbia d'acciaio è orribile, ma paradossalmente una cabbia d'acciaio potrebbe persino offrire protezione rispetto agli attacchi del mondo esterno, anche se una cabbia non piace e fa paura. Ma oggi non c'è nessuna gabbia d'acciaio. Anche il mondo capitalistico porghese è su una via di crisi profonda. Per dirlo in termini cronciani e evocati stamattina, c'è oggi una crisi di egemonia. Certo oggi non c'è l'egemonia della classe operaia, della sinistra nel mondo. Non c'è l'egemonia della sinistra, ma c'è l'egemonia dei valori porghesi, né dei valori porghesi classici, la porghesia produttiva dell'Ottocento che sviluppa le forze produttive, né ancora quella gran parte di porghesia che nel Novecento comunque accetta il compromesso, lo scontro, ma anche il compromesso forma lo stato sociale, promuove scienze tecniche e così via. Guardate che oggi è in corso, e su questo vorrei richiamare la vostra attenzione appoggiandomi sull'agitazione di Marx. Oggi la comune ruina di classe in lotta è anche la crisi della porghesia, è anche la decadenza della porghesia. Prendete anche qui dei testi. 1980, citavamo stamattina Lugio Colletti, marxista, poi bentito, nell'Ottanta, vedete, scrive un saggio, il tramonto dell'ideologia. Mario Tronti, tuttora vivente, grande teorico marxista, leggeremo i suoi prossimi scritti che stamattina Serra ci annunciava, alla fine degli anni 90 scrive il tramonto della politica. Avete quella parola tramonto? Untergang, il Marx che abbiamo citato, il tramonto. Venite un pochino più avanti, 4-5 anni fa, Giuseppe Derita, un saggio sull'eclisse, non è il tramonto, è l'eclisse della porghesia. Derita non è un marxista, è un sociologo di idee progressiste, democratiche, di formazione cattolica, un attento studioso della società italiana, l'eclisse della porghesia. E non è un tema solo italiano, la porghesia italiana si è sempre stata un po' scalcinata e un po' stracciona, è un problema generalizzato. Perché? Si può dire che l'America, la porghesia e il capitalismo stanno vincendo negli Stati Uniti? Ci sono state le elezioni di mezzo termine tre giorni fa. Si vede che anche quel paese è spaccato profondamente. Con i commentatori hanno detto che la politica negli Stati Uniti si è italianizzata per la contrapposizione e lo stallo che si può degenerare. Ma insomma, un paese che ha fatto la sua forza e la forza di sviluppo capitalistico aprendo le proprie frontiere al mondo. Gli americani sono un crociolo di razze, di popolazioni, di culture, di civiltà. Ogni esule poteva trovare negli Stati Uniti rifugio e ogni poveraccio poteva sperare di far fortuna andando negli Stati Uniti. Oggi si alzano i muri. È crollato il muro di Berlino, si alza il muro col Messico. E non è un segno di crisi di egemonia. E non sto facendo del bonismo o del pauberismo. Non lo fa neanche il Papa, peraltro. Quindi sarebbe strano che lo facessimo noi che abbiamo una formazione marxista. Non è una crisi di egemonia. Cioè, quel modello che ha avuto, certo, l'egemonia americana nel Novecento, il secolo americano, oggi non è più capace di egemonia. Ecco, la comune rovina delle classi in lotta. Uso ancora la categoria kramshiana. È proprio incapacità di egemonia. Non c'è un'egemonia del mondo del lavoro, dei valori della sinistra, ma non c'è più nemmeno, e di questo non ce l'accorgiamo ancora abbastanza. Il nostro sguardo, leggendo Marx, dovrebbe farsi più acuto. Ma c'è anche una crisi di egemonia del mondo capitalistico, in tutte le sue forme. E l'alternativa non è mica... Tanto arriverà la Gina, oppure arriva Putin. Qualcuno di voi vorrebbe vivere in Cina, pur essendo la Gina una grande potenza economica di tutto rispetto, ed è la novità di questi anni. E qualcuno di voi anche per il quale, come dire, il cuore batte a sinistra e gli piace la bandiera rossa. Il Partito Comunista cinese è ancora al potere. Qualcuno di voi vorrebbe vivere in Cina, lo dico ai giovani di sinistra, col Partito Comunista del Potere, ma in quel sistema lì. Quindi, attenti, vuol dire, non sto facendo propaganda anti-cinese, non mi fraintendete, non sto proponendo di alzare i dazzi docanali contro la Gina. Dico che nemmeno quel modello è egemonico, nemmeno quel modello... non è egemonico più il modello americano, ha perso la sfida per l'egemonia, ma non è egemonico nemmeno il modello cinese o il modello russo, per stare a grandi potenze che comunque sono sulla scena della storia, e che sono sulla scena della storia, non è che sono quisquiglie. Quindi è del mondo, non solo l'Europa, come negli anni 30, negli anni 30-40, ma oggi il mondo, perché davvero il mondo si è unificato, sta vivendo una crisi profonda, crisi, nessuno ha l'egemonia, non si sa bene dove si andrà, piuttosto dai segni che emergono, vediamo elementi regressivi, i nazionalismi che riemergono, i muri che si alzano, i segni negativi li leggiamo tutti i giorni sui giornali con inquietuzione, ma appunto, ecco, io mi fermo qui, io non credo al Marx profeta, Marx profeta biblico, Marx era un sereno epicureo, fece la laurea, si laureò proprio su una tesi, su Democrito epicuro, e Marx nella vita privata, come nella sua metafisica generale, è sempre rimasto un sereno epicureo. Quando parla appunto della comune rovina delle classi in lotta, non lo leggiamo quel Marx, come magari a volte ha fatto anche il nostro amico Cacciari, con gli occhiali di Nietzsche o di Heidegger, perché Nietzsche o Heidegger, pur essendo grandi pensatori, sia chiaro, a mio giudizio rimangono dei preti mancati, nelle loro pagine si sente sempre un odore di sacristia. Del resto, Nietzsche era figlio di un pastore luterano e lui stesso avrebbe dovuto diventare pastore, la mamma voleva così, poi certo si è ribellato ed è diventato Nietzsche, meno male. Heidegger stesso aveva studiato dei gesuiti, avrebbe dovuto diventare un teologo, poi a un certo punto alla sua crisi spirituale diventa Heidegger, però sia Nietzsche che Heidegger non si sono mai liberati dalla loro formazione religiosa, anche quando dichiarano la morte di Dio. Ecco Marx questo problema non ce l'aveva, era un sereno epicureo, un convinto epicureo, ma attenzione non è questione solo di filosofie, forme di vita. Marx ci dice anche dove sta la genesi della crisi, perché rischiamo, ci dà gli strumenti per una comprensione razionale della genesi della crisi. Leggete Heidegger, leggete Nietzsche, la crisi dell'Occidente che cos'è? È un destino, è il destino dell'Europa, metafisica della storia, è pura metafisica della storia. E a quella metafisica poi si risponde con che cosa? Con la decisione. Poi la decisione può essere mi faccio di droga o marcio con le SS. Ogni decisione non ha giustificazione, si impone perché la decisione è la decisione. È il linguaggio prevalente in Nietzsche e ancora più in Heidegger. Destino e decisione. Marx sceglie un'altra via, appunto sceglie la via del comprendere le dinamiche storiche e sociali. Quali sono i fattori della crisi? E combatterle, e provare a combatterle. Ecco, noi oggi viviamo in tempo in cui non vediamo neppure le glassi in lotta, rischiamo di intravedere, di vedere sulla scena la comune rovina. Si tratta di non diventare fatalisti e tantomeno rassegnati. Ci mancherebbe altro, ve lo dicevo. Io insisto su questo perché la vedo ancora troppo poco, vedo ancora troppo passo, il livello di coscienza di questa, quella che per Marx era una possibilità, solo una possibilità, la comune rovina di classe in lotta, oggi sta diventando terribilmente concreta. E quindi se vogliamo evitarla, la prima regola è prenderne coscienza. Per curare qualunque malattia, prima di tutto bisogna, per risolvere un problema, prima di tutto bisogna prendere coscienza del problema. Il primo atto, e questo è compito soprattutto appunto del pensiero, dello studio, della filosofia, della teoria, dite come volete, prendere coscienza del problema. Poi è chiaro che la soluzione è politica o non è.